e beh 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 si gode si gode discretamente perché comunque noi siamo usciti gli ottavi quindi ma si gode si gode si gode io sto godendo signori sto godendo sto godendo come un riccio come quando l'inter ha perso la fine di europa league come quando questi eventi qua se però per l'inter ho diciamo goduto per una questione di rivalità tra le due squadre qui godo per altri svariati motivi e ve li elenco tutti adesso tutti tutti cominciamo a dire che io ho molti parenti in francia e per questo mi ha portato a simpatizzare da fin da bambino per l'olimpique marcia non ti fare simpatizzare quindi vedere il pari san germain che stasera saranno disperati credo che il cugino perché sono parenti ha perso ha perso il trofeo per cui di cui ambisce la conquista da secoli ma credo anche per vedere tu che a dicembre era sotto contratto col psg a maggio finisce la coppa campione col celsi diciamo che io fossi un tifoso del pari san germain sarai alquanto incazzato ma fortunatamente non lo sono e quindi sto godendo sto godendo e sono contento perché se avessimo se avesse vinto il manchester city pipponi su canselo a 300.000 300.000 mani ma poi canselo neanche ha giocato e devo essere sincero da fuori da esterno non ho capito perché non l'abbia messo in campo onestamente perché a un certo punto quando vedi che non riesci più a saltare un uomo uno come canselo poteva però il maestro guardiola ha deciso così maestro guardiola altra prova che mi rende godurioso godurioso ma proprio tanto godurioso è stata il discorso di dove era guardiola due settimane fa e lo dico io era bobo tv canale di di bobo vieri dove tra l'altro fa delle ha sempre degli ottimi ospiti cliccato che qualcuno ha lì come commentatore l'elone nazionale adani e anche lì e anche lì come al solito non ci ha preso perché disse che dovevano vincere loro doveva vincere i city perché city era allenato benissimo una squadra straordinaria una squadra meravigliosa una squadra di qua una squadra di là poi invece come al solito quando adani parla succede il contrario proprio ma proprio è una equazione matematica cioè non è una questione di di rivalità o cose cioè di antipatie e io mi sto divertendo perché è vero cioè ragazzi fateci fateci caso fateci caso è che vi devo dire ragazzi poi ci sono altre cose ci sono altre cose intanto sono anche umanamente contento per alcuni professionisti esemplari tipo tiago silva che comunque quando vincono personaggi del genere io sono contento perché sono tutti ci sono giocatori che professionisti che comunque credono credono in tanti cerci credo c'è sono giocatori comunque il vedi che sono persone di un certo livello e poi ragazzi ragazzi sto godendo per guardiola sto guardando sto guardando per guardiola perché intanto a me non piace perché a me le persone che ruffianano non sviolinano destra sinistra fanno i complimenti da una parte e poi dall'altra ti danno una legnata non mi piacciono non mi sono mai piaciuta preferisco gente chiara preferisco murigno caratterialmente a tal proposito murigno disse disse a guardiola parlo parlo di se vi ricordate di quando successe il campionato che poi ci fu la semifinale quel famoso anno della di guti murigno che disse porqué porqué ve lo ricordate non quell'anno lì il signor cos'è murigno che comunicativamente era un genio è un genio ancora adesso infatti sono convinto che sulle conferenze stampa ci si divertiremo tra l'altro secondo me secondo me lui disse a un certo punto perché lui ha vinto con c'è col c'è ha vinto champions con barcellona come sarà unicef queste cose qua io gli auguro lui fa io vinto la champions league e questo ebbe ragione murigno su sta cosa secondo me con due squadre che non la vincevano mai porto e inter fa mi auguro mi auguro che prima o poi ne vinca una vera questa cosa mi ha colpito allora e ogni volta che gioca il barcellona che gioca guardiola qualche qualche torneo importante ci penso perché effettivamente guardiola senza la formazione che aveva a a barcellona non ha più vinto niente a livello europeo cioè ragazzi impressionante e impressionante cioè io adesso ho qui la formazione del barcellona che ha vinto la champions league guardiola con cui ha vinto la champions league a cui poi va tolto silvi va tolto silvino e va aggiunto daniel alves cioè per dire da victor valdez che vabbè portiere faceva un po schifo però pujol iaia touret gerard piquet silvino perché che poi sostituito daniel alves dopo è quindi attenzione busquez xavi iniesta messi eri e to cioè ragazzi con per carità era forte anche il united che ci ha giocato contro ma secondo me c'era una differenza enorme 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 perché van der sar c'era o sheik e secondo me non è di questi livelli fredinand si vidic buon giocatore ma non è mai stato a questi livelli e vra anderson carrick che sono buoni giocatori per carità ma c'è la differenza gix per la fine carriera park che era un buonissimo giocatore ma ripeto un buon giocatore runey ronaldo che erano già erano i più forti di quella formazione cioè di qui ma il barcellona aveva su 11 giocatori aveva nove fenomeni un buon giocatore è uno magari così così che era vittor valdes cioè hanno fatto i pipponi su pipponi su pep guardiola quando secondo me a barcellona a barcellona ha fatto meglio luise enrique per me per me perché comunque ha vinto tutto in un anno in un anno dove non aveva questa formazione anche se era una squadra molto forte però boh ragazzi veramente giuro 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 io sto godendo sto godendo sto godendo tanto sto godendo tanto perché alla fine guardiola 30 milioni l'anno ha dimostrato che senza quel tipo di giocatori fallisce e oggi guardate che guardiola tantissime responsabilità non è perché i giocatori non ha lui la risposta tanto lui ha la risposta perché lui fa il mercato al city ha fatto spendere miliardi al city miliano non milioni miliardi per ottenere zero coproprio zero cioè qua mi sento criticare la juve perché ha speso 100 milioni per ronaldo o 80 milioni per delitto cioè questi sono acqua fresca in confronto a quello che ha speso city acqua fresca eppure che non si vince non si vince non si vince e attenzione la cosa più grave non è che non vince e poi vince una francese una tedesca un'italiana una spagnola che dici va beh se il campionato è migliore è già la seconda volta che vincono le inglesi e lui va a casa senza coppa è stato buttato fuori dal liverpool è stato buttato fuori adesso dal celsi ma ragazzi è però continuiamo a dire che il miglior allenatore della storia va benissimo io però è uno di quelle di quei personaggi che io spero vivamente che alla juve non venga mai 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 perché intanto lo vedo una persona proprio finta c'è una di quelle persone come posso dire che come detto prima da una parte ti sviolina dall'altra ti legnano poi lo vedo una persona completamente bloccato su di lui proprio sul gioco 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 secondo me se non dà una svolta alla sua carriera ve l'ho ricordato come sacchi cioè uno bravo ma che ha perché non è che non sia bravo però è schiavo del personaggio secondo me ed è troppo montato per rendersene conto e secondo me questo lo porterà a essere ricordato un po come arrigo sacchi cioè quello bravo con la scuola di marziani che non è per forza però è un'onta cioè l'onta ce l'hai nel senso che alla fine il pensiero ce l'hai ragazzi ce l'hai cioè dire ma allora allora non è non è non è non è che vince con chiunque con i suoi schemi non è così ragazzi non è così cioè nei giocatori come diceva allegra ma come dice tu che tu che ragazzi oggi ha dato una lezione tattica allucinante io lo guardavo la partita se il cel si avesse avuto andrea pierlo a centrocampo andrea pierlo giocatore oggi finiva 4 a 0 la partita perché i siti era messo malissimo dietro non riusciva a tenere una posizione una roba indecente allenato malissimo ma li si mo quindi e niente ragazzi tu che vince la coppa credo finalmente perché penso che se la meritava parigi veramente ormai credo che si staranno strappando i capelli mi dispiace che debrui si sia fatto male ma una cosa su debrui la devo dire perché io non ho digerito il posto sulla superlega dove ha fatto la 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 piccola fiammiferaia no io sono partito con un sacco dal mio paesino e poi vai a vedere vai a vedere che prende 20 milioni di euro l'anno ma io per 20 milioni di euro l'anno mi tengo altri giocatori c'è oggi cantè che prende un quarto di quello che prende lui gli ha posato gli attributi in testa facendo vedere chi è veramente un fenomeno e chi gode di buona stampa perché debrui secondo me non è uno di quei giocatori che ti va fare il salto di qualità o meglio te lo fa fare ma nelle partite più importanti si scioglie e non è la prima volta non è la prima volta perché prima che dite ma sei la prima che sbaglia no non è la prima che sbaglia non è se devrui prendesse 10 milioni cioè prendesse 7 milioni 10 milioni uno ci può anche pensare 20 milioni sinceramente o sei cristiano ronaldo o sei messi se no non te li prendi e per essere ronaldo messi devi farmi vincere almeno qualcosa in carriera debrui non è più un ragazzino e non mi sembra che abbia mai alzato la champions league quindi e soprattutto spari oggi veramente malissimo ma male 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 e ripeto non è la prima volta non è la prima volta e quindi niente e quindi niente adesso il celsi sta alzando la coppa dalle mani dell'altro di quell'altro fenomeno di seppini che ovviamente non ha ricordato neanche lei selma perché quindi stanno in principi e dunque il celsi è campione d'europa battendo il city e quindi niente ragazzi io chiudo qua il video ovviamente migliori in campo cante ha fatto una partita strepitosa saluti all'elone nazionale delle adani che ha fallito ancora un altro pronostico dei suoi quindi complimenti a guardio salutiamo guardiola que dall'alto dei suoi 30 milioni di euro l'anno che saluta ancora una volta i trofei europei che senza il barcellona di niest a xavi berri e messi e vedi compagnia cantante non vince salutiamo lo sheiko mansur che accontentando guardiola ha speso miliardi su miliardi miliardi per vincere niente a livello europeo salutiamo tutti questi invece saluto voi e fino alla fine forza juventus perché guardate che la juve non vince in europa da un po di anni ma c'è chi come bompe sta peggio di noi perché noi perlomeno non spendiamo queste cifre e non abbiamo questi ingaggi e soprattutto non ci sono le nostre connazionali davanti a noi nel senso è vero noi abbiamo perso una coppa col mila ma 20 anni fa se io adesso con la juve che alla squadra più forte d'italia in questi nove anni avessimo perso un'altra coppa con il napoli per dirlo la roma io veramente avrei voluto mezza dirigenza fuori però city è contento così perché c'ha pep guardiola che secondo me col bayern monaco e city per me si è dimostrato cocciuto e arrogante e soprattutto un allenatore non così preparato come sembrava essere con il barci con il barcellona per me gode molto di buona stampa e ripeto mi va bene così rimanga lì non venga torino neanche per sbaglio e quindi e quindi niente ragazzi vi saluto fino alla fine forza juventus ciasi campione d'europa city campione solo d'inghilterra e quindi ancora una volta pep zero titoli europei ciao a tutti